Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey, io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia del Real Madrid per la stagione 21-22 nella versione Player. Il percorso verso la vittoria inizia da qui. La grafica con gli aghi della bussola e la scritta sul retro del collo traggono ispirazione dalla celebre targa del chilometro zero nella città natale del Real Madrid. La terza maglia del Real Madrid unisce sport e lifestyle con influenze legate alle maglie degli anni 90 e ai designer originali di Adidas. Il tessuto morbido e la tecnologia di ventilazione Heat Ready garantiscono performance degne dei migliori calciatori. Il prodotto è realizzato con materiali riciclati ad alte prestazioni prime green. La texture della maglia è un richiamo a delle linee di compasso che prende un'ispirazione dal chilometro zero, ovvero il punto della cuberta del sol da cui venivano calcolate le distanze all'interno del paese e da cui parte la rete stradale spagnola. Dietro questa bellissima maglia non potevo che stampare il numero di Toni Kross, uno dei giocatori più eleganti e forti del club. Secondo me questa maglia è strepitosa. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, ditemi cosa cosa ne pensate. Vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poterla acquistare. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia L della versione player, la versione indossata dai calciatori.